Ho scelto questo studio perché sono stato consigliato da amici che hanno avuto esperienze positive. Il problema che dovevo risolvere era che avevo l'incisivo superiore che si stava sormontando l'altro e quindi avevo difficoltà di espressione, di sorridere, eccetera. Avendo anche un tipo di attività nella quale sono tuttora molto a contatto con il pubblico, il fatto di essere sorridente e sereno senza dovermi preoccupare del mio sorriso sicuramente rende meglio la persona, si ha un approccio migliore. Avendo questo problema mi sentivo sicuramente frenato nel sorridere, non ero libero nelle mie espressioni. Il fatto di non essere libero di fare tutte le espressioni che uno ha diminuisce e svalorizza le potenzialità anche della persona nell'espressione, nel comunicare. Una persona non è libera a 360 gradi di esternare le proprie sensazioni. Di scrivere il team come una bella squadra, proprio nel vero senso della parola. Tradotto team squadra, bellissimo. Un bellissimo affiatamento e soprattutto il fatto di vedere persone giovani lavorare riempie il cuore di gioia. Mi sono trovato bene, essendo anche una persona comunque molto sensibile sotto ogni punto di vista, hanno avuto anche un occhio di riguardo nei miei confronti. Il loro punto di forza secondo me è l'età e la voglia di fare. La preparazione sicuramente che avranno dietro, le possibilità, eccetera. Hanno anche dei prodotti innovativi e rendono veramente tanto. I risultati che ho ottenuto da quando ho iniziato questo studio sono eccellenti, perché sono passato appunto da avere i denti incisivi sormontati ad avere un spendito sorriso. E poi aggiungiamo anche la cura e la pulizia che nel corso del tempo le ore mi danno. Sono grato del risultato ottenuto. Sono stra soddisfatto. Consiglierei questo studio a 360 gradi a tutte le persone di qualsiasi età, a prescindere dalla professione, del contatto con il pubblico o meno. Il fatto di avere un bel sorriso secondo me rende infinitamente tanto. Ripensando a come ero prima e vedendo come sono oggi, sicuramente sono stra soddisfatto del risultato. Peccato non averci pensato prima.